Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Traffico intenso sulla A1, il tratto interessato Calenzano al Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Ancora in A1, personale su strada in direzione Roma tra Valdarno e Arezzo. Rimaniamo in A1, materiali sulla carreggiata tra Chiusi e Valdichiana, direzione Firenze. In A12, personale su strada per lavori tra il Bivio A12 e Colle e Salvetti in direzione Rosignano. Ricordo l'A1 variante per lavori di manutenzione all'impianti delle gallerie. Stanotte, orario 22.6, sarà chiusa completamente in direzione Bologna. Contestualmente chiusi gli svincoli di Firenzuola, Mugello e Badia in entrata verso Bologna, in uscita per chi proviene da Roma. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.